Ciao popolo blu cerchiato, benvenuti, benvenuti alla prima tele svendita giocatori Sampdoria visto che la società Sampdoria sta un po' faticando nel vendere i giocatori e le altre squadre abbiamo deciso di organizzare una bella svendita totale dei calciatori in modo da essere sicuri di toglierci tutti al miglior prezzo possibile perché voglio dire così che si fa ad ogni modo veniamo, veniamo, venite a corretto numerosi chiamate un numero di sovraimpressione 00001000 come i codici binari, avanti tutta allora, abbiamo già tre, tre, vi dico ben tre possibili acquirenti oggi abbiamo, ci chiamano da Firenze la signorina buongiorno a tutti, io sono Tira Fioren, vengo da Firenze buongiorno signorina Nina Fioren, benissimo poi ci chiamano anche da Torino, da Torino quindi abbiamo anche un piemontese, il piemontese come si chiama? si sono, io sono Nino Toro, vi chiamo dalla Mola Antonelliana a Torino Nino Toro, bene bene, e poi siamo in tutta Italia signori anche nelle isole, nelle isole, l'isola più bella del mondo la Sardegna, dalla Sardegna invece ci chiama? ciao, io mi chiamo Arianna, per dei miei amici Ari, Ari Caglia Ari, ok, vabbè, Ari è Arianna, Ari, però giustamente la chiamiamo Ari perché vuole essere chiamata Ari Ari Caglia, benissimo allora, questi tre acquirenti desiderano comprare qualcosa noi abbiamo un sacco di cose, mi sono anche scritto qua degli appunti perché è giusto sapere quello che si dice a chi vuole ascoltare queste televendite passiamo subito alle cose serie, pronti via, pronti via l'uomo più richiesto del mercato, Bartos Berezinski allora, per Berezinski offriamo una promozione veramente fuori dal comune Berezinski ve lo diamo impacchettato, pronti, così pronto a giocare con ancora i pezzi di uova che gli hanno lanciato dopo l'errore decisivo nel derby è imperdibile, potete anche togliere i pezzi di uova e poi cucinarle quindi ragazzi, fa tutto, fa tutto è incredibile, è un'occasione da non perdere, veramente guai a voi se la perdete diamo Ramirez, Ramirez ve lo consegna un corriere a Amazon non ce lo fa nato però, poverino, con due buchi che possa respirare se no diventa un po' un casino consegno in tutta Italia, anche all'estero, compresi arabi, sauditi arriva anche in omaggio con un buono per un corso di gestione dell'Arabia organizzato proprio da Ramirez, che lui se ne intende poi, 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 andiamo avanti, andiamo avanti che qui abbiamo richieste su richieste Leris, me di Leris signori, non vi preoccupate perché, adesso vi spiego Leris arriva a Zoppo ma vi spiego, abbiamo visto che c'era un difetto di fabbricazione nelle gambe allora, noi ve lo diamo così col busto, la testa, le braccia e quant'altro ma senza gambe dopo tre giorni arrivano le gambe li stanno facendo fare un controllo rodaggio, quant'altro, controllando perché c'erano chiarissimi difetti proprio di fabbricazione facevano un schifo, abbiate pazienza ma adesso le stiamo cambiando arrivano dopo tre giorni qualora non andassero bene sono cazzi vostri noi non abbiamo diritto di rimborso rimborso non disponibile dispiace, ma ve lo tinete perché perché sì Seculin 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 unico nel suo genere signore e signori Seculin arriva direttamente a casa vostra con la maglietta della Juve Stabia quella della Sampdoria non l'ha mai indossata perché dovrebbe metterla ve la diamo con quella della Juve Stabia quindi è qualcosa di unico unico incredibile c'è anche un set di piatti un set di piatti di plastica se prendete Seculin come vedete sono più di set ma noi li diamo tutti in omaggio tutti tutti poi poi andiamo avanti andiamo avanti Gabbiadini signore e signori Gabbiadini ha Norton installato l'antivirus Gabbiadini è stato eletto come l'uomo antivirus per eccellenza perché è discreto giocatore pre-Covid uno dei primi del calciatore a prendersi il Covid da quando si è preso sto virus boh è ritornato un campione quindi l'antivirus per eccellenza non possiamo che darvelo senza un antivirus ma ma vi diamo anche questi coupon per lo zoom che è un bellissimo zoo di Torino vicino a Torino con ben due euro di sconto quindi affrettatevi perché l'offerta di Gabbiadini dalle case le dita le dita dei piedi delle mani tutto tutto avanti 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 abbiamo Murillo Murillo per Murillo però c'è stata una mobilitazione da parte di tutti 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 i tifosi sandoriani sono disposti a portarlo sulle spalle a prenderlo a portarlo non importa dove abitiate ce lo carichiamo uno uno per uno a testa ce lo cambiamo ve lo portiamo sulle spalle dove abitate ve lo consegniamo non ti via non deve accadere niente Murillo deve essere consegnato guai guai se non accade Bonazzoli 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 che ha un gran potenziale ve lo vendiamo con un'offerta imperdibile chiamate entro tre giorni vi regaliamo anche il videogioco di The Last of Us parte 2 scusate la custodia in plastica il gioco me lo tengo a dire scusate non è finita non è finita capitano futuro Linetti Linetti c'è anche lui in mezzo con Linetti diamo un caricabatterie per iPhone mi sono sbagliato non avevo non ho l'iPhone ho un Samsung mi sono sbagliato ho preso questo dai cinesi e mi sono ritrovato con un caricabatterie in più lo trovo nello scontrino quindi lo devo dare in qualche modo comprate Linetti che vi do anche questo in omaggio vai c'è Yoshida vai a Yoshida abbiamo un bel dizionario genovese giapponese inglese italiano fa tutto fa tutto lui fa dal traduttore Yoshida va bene per tutto amici c'è nel tutto tutto va bene Yoshida va bene per tutto vai non è finita Collei e Vieira se li prendete insieme pagate il 50% in meno della somma del totale dei due giocatori quindi prendeteli prendete chi volete tanto qui Luci Sampdoria ha ufficializzato la svendita totale ma adesso passiamo alle cose importanti passiamo un attimo anche a parlare degli acquisti che ha fatto in questa sessione di mercato della Sampdoria benissimo è finito grazie per averci ascoltato tifosi sampdoriani blu cerchiati godiamoci la nostra bella sessione estiva di calcio mercato che sarà una figata e ci vediamo al prossimo video ciao popolo blu cerchiato